E adesso con la posta del Tg Post vi portiamo a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza dove un gruppo di bambini della scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti ha incontrato Massimo Bordin portalettere dell'ufficio postale della città al quale ha consegnato lettere dedicate al tema dell'amicizia scritte nel corso di un laboratorio di scrittura. Ci faremo raccontare questa giornata speciale dal portalettere Massimo che è proprio in collegamento in diretta con noi. Buongiorno Massimo, grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere, buongiorno a tutti. È un piacere per noi. Allora Massimo, la figura del postino è un po' un mito per tutti i bambini ma ci racconti come hai descritto il tuo lavoro, la tua giornata ai bambini? Sì, senz'altro. È stato bellissimo essere vicino al mondo della scuola e insegnargli anche un po' come sono le regole del mondo dei grandi. Io ho raccontato in poche parole qual è stato il viaggio di questa lettera che loro, con il loro programma che hanno fatto a scuola, ci hanno portato. Quindi dal momento della spedizione dentro la cassetta rossa finché tutto il viaggio e per fare questo ho fatto un gioco con i bambini. Erano in sei e allora ho fatto tipo un gioco di ruolo. Ad ognuno di loro un compito. Il primo bambino ha svuotato la cassetta, il secondo ha fatto finta di guidare il camion di Portala verso Padova, che è il nostro centro di smistamento. Poi l'ha passato un altro bambino e via di seguito finché è arrivata a me. Questo per dare proprio l'idea che Poste Italiane è un gruppo, una grande famiglia dove ci sono tante persone che lavorano e non siamo solo noi portalettere che facciamo tutto il lavoro ma c'è proprio un gioco di squadra e loro con questo gioco di ruolo si sono anche molto divertiti. Quindi hai messo al lavoro praticamente anche i bambini. Ma ci togli una curiosità, che cosa ti hanno chiesto? C'è qualche domanda particolare che ti hanno fatto? Che cosa volevano sapere? Beh guarda, la prima cosa che mi hanno chiesto è stato ma quanto ci mette ad arrivare? Perché era una lettera molto importante che era destinata ai loro amici a scuola e quindi io gli ho spiegato che loro erano anche molto fortunati perché essendo proprio vicini all'ufficio postale sicuramente in un giorno sarà arrivata. Ed è quello che è successo perché il giorno dopo sono stato io stesso che sono andato a consegnare quindi abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo fatto la consegna insomma e quel giorno erano arrivate anche altre lettere che loro stessi avevano spedito e quindi erano felicissimi. Immagino, immagino, ma ci immagino anche la sorpresa quando ti hanno poi rivisto. Ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa bella storia, ti salutiamo, ti lasciamo al tuo lavoro e sentiamo insieme che cosa ha detto la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bassano del Grappa, Marika Fiorese. Questa iniziativa di oggi partita dai bambini guidati da questa loro maestra nel conoscere il servizio postale e questo incontro con il postino è nato nell'anno in cui l'educazione civica entra nelle nostre scuole. Questa uscita di oggi ha reso i bambini entusiasti perché dopo molto tempo si ricomincia a uscire, a ritornare un pochino alla volta alla normalità. E questo incontro di oggi che l'ufficio postale di Bassano ci ha permesso di fare è per noi motivo di grande soddisfazione.